Musica Dottoressa Balducci, si può dire che alla Spezia in Liguria si vedono i primi flussi turistici. Il 2015 era stato un anno un po' particolare, soprattutto nella tratta delle 5 terre e oggi ci troviamo un po' a rilanciare un appello per fare un po' di prevenzione sia per la sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie ma soprattutto per difendersi dai borseggi. Sì, infatti noi della Polizia Ferroviaria abbiamo proprio il compito di garantire la sicurezza di quella particolare categoria di cittadini che sono i viaggiatori e noi infatti siamo presenti in divisa in stazione sui treni, presenti ma non visibili in borghese proprio per fare in modo che le stazioni e i treni risultino luoghi più sicuri. Sono infatti delle situazioni in cui c'è sì una moltitudine di viaggiatori ma anche molti malintenzionati che approfittano del contesto per perpetrare i reati e tra questi è ovvio che i più frequenti, soprattutto quando gli spostamenti si intensificano e quindi sto parlando dei periodi estivi ma anche dei periodi festivi, sono i furti, sono gli scippi. Allora è importante comunque seguire dei semplici consigli perché un viaggiatore attento e informato è per noi che facciamo sicurezza sicuramente un elemento in più. Quindi in stazione occorre stare attenti a non lasciare in custodito il proprio bagaglio, tenere il denaro e i documenti separati. Sappiamo che le zone che prediligono i bosteggiatori sono gli atri, le biglietterie, le macchinette self-service e quindi è importante preparare prima i soldi, prima di fare il biglietto in modo da evitare che le persone che circondano il viaggiatore si rendano conto di quanto valore ha nel borsellino. Nei sottopassaggi stare per il tempo strettamente necessario e comunque fare attenzione quando c'è sovraffollamento. Le cose non cambiano quando uno è a bordo treno perché anche lì occorre non lasciare in custoditi gli oggetti. Quindi ultimamente accade spesso che vengono rubati i tablet perché il viaggiatore li lascia sul tavolino dello scompartimento e comunque anche se per breve tempo è comunque necessario e sufficiente appunto perché vengano rubati. La sicurezza parte anche proprio dal cittadino e per questo motivo che la Polfer ha organizzato delle campagne formative. Diciamo che da diverso tempo il Servizio Polizia Ferroviaria ha lanciato e avviato delle campagne comunicative di sensibilizzazione per i viaggiatori, soprattutto i giovani che spesso sono vittima di incidenti dovuti ai loro comportamenti imprudenti per la mancanza di consapevolezza dei rischi che nasconde comunque il complesso ferroviario. Il nome è un programma, un viaggio sicuro parte da te. Questo è il nome delle campagne, della campagna pubblicitaria di sensibilizzazione ma vorrei dire che un viaggio sicuro parte da te può essere esteso a tutti perché è il momento quello da cui parte poi tutta la prevenzione.